Ciao a tutti, eccomi tornata con un nuovo What I Eat In A Day e ovviamente non potevano essere a tema autunnale come sempre iniziamo dalla colazione e non so voi ma quando le temperature iniziano un po' ad abbassarsi io ho sempre voglia di qualcosa di semplice da preparare però che al mattino, cioè mi permetta di farlo in velocità perché io voglia a zero di fare qualsiasi cosa al mattino e che sia però comunque bello corposo infatti ho scelto un classico snack americano che ho convertito come colazione e comunque altro non è che il toast con burro di arachidi e marmellata e ragazzi se non lo avete mai provato ve lo consiglio perché c'è il contrasto del dolce e del salato e poi vabbè ovviamente deve piacere però a me fa impazzire come gusto ed è molto molto morbido al mattino e poi io ovviamente concludo il tutto, voi ormai lo sapete, con un bellissimo caffè lungo che sia quanto più lungo possibile perché devo svegliarmi insomma arriviamo all'ora di pranzo e qui ho voluto dilettarmi un po' di più con i fornelli e qualche giorno fa alla Conad ho trovato queste mezzelune al grano saraceno con ripieno di zucca e non lo so mi è venuto subito in mente di condirle con una crema alle noci semplicissima quindi che potete preparare davvero in qualsiasi momento io che cosa faccio? Prendo un mixer ed inizio ad inserire piano piano gli ingredienti partendo da un pochino di olio, ovviamente io ho utilizzato quantità ad occhio quindi regolatevi un pochino voi aggiungendo le noci e per concludere il tutto con un pochino di acqua per legare il tutto e vi ripeto le quantità davvero sono ad occhio quindi il consiglio è quello di regolarvi e comunque mixo tutto e lascio da parte il composto che ho ottenuto e nel mentre attendo che l'acqua arrivi ad ebollizione e sì nel frattempo qui potete vedere che avevo preparato una cosetta a parte perché è rarissimo che io e Domo mangiamo cose simili a pranzo soprattutto anche a cena e in questo caso avevo optato per un po' di riso venere con burro e salmone per lui e comunque torniamo a noi io attendo poi la cottura delle mezzelune che è davvero minima e poi unisco il tutto ovviamente io provo sempre a fare degli impiattamenti quanto meno decenti ma poi la realtà dei fatti è sempre un'altra ma alla fine fa nulla perché era davvero buonissimo per la merenda ho optato per qualcosa di davvero leggerissimo dato che il pranzo non è stato dei più leggeri quindi tisana calda con qualche biscotto e sì mi vedete in pigiama perché quando so che non devo più uscire nel pomeriggio mi piace mettermi comoda comoda e rilassarmi in casa e io vado matta ragazzi per la tisana anice e finocchio ha un sapore che mi fa impazzire e ultimamente la fissa per i biscotti della gran cereale è tornata a farmi visita e credetemi io finirei l'intero pacco se non fosse per il fatto che bisogna mantenere comunque un certo tipo di decoro quando si mangia questa è stata la mia merenda molto molto semplice arriviamo alla cena ragazzi e qui ho scelto una bella focaccia con grano saraceno e semi di girasole e da abbinare con un po' di affettati e a me e dom piace spesso cenare in questo modo durante le stagioni un pochino più fredde e io amo tantissimo la bresaula è uno dei miei affettati preferiti e poi unisco anche il tutto con un po' di prosciutto cotto che non guasta mai e sì se non si fosse capito io abbondo tantissimo con i condimenti interni perché amo i panini belli imbottiti e non lo so mi sanno di qualcosa di consistente bello ciacciotto e quindi da quando sono piccola che tendenzialmente mangio in questo modo quindi niente questa è stata la nostra cena con questo è tutto ragazzi io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto e vi ricordo di lasciare un bel like quindi un bel pollice in su se è così ed iscrivervi al mio canale per non perdervi tutti i futuri video io nel frattempo vi mando un grande bacio e ci vediamo alla prossima ciao